Via Libera regolamento per consentire ai cittadini di pagare i tributi comunali, ad esempio, tarso e contravvenzioni automobilistiche senza sanzioni ed interessi. Ad approvarlo il Consiglio Comunale di Cava e Tirreni, però non di Salerno, dove c'è comunque un'amministrazione di centro-sinistra, come il capologo. Se infatti a Salerno la Giunta Napoli non ha accolto gli inviti giunti dall'opposizione, Dante Santoro in testa, ad aderire all'ex decreto legge 193 2016 per aiutare i contribuenti morosi ed in difficoltà economica, a Cava e Tirreni il sindaco Servalli è deciso in maniera differente, con l'ultimo Consiglio Comunale che ha dato il Via Libera con 19 voti favorevoli e 4 astenuti. Facciamo un tentativo per venire ulteriormente incontro ai nostri concittadini. Molto spesso si è morosi non perché lo si vuole essere o perché si è indisciplinati o non rispettosi delle regole, si è morosi perché le nostre famiglie hanno difficoltà economiche, sociali a tirare avanti. Avevamo questa possibilità che la norma ci ha dato, mi è parso assolutamente doveroso da parte del Comune dare la possibilità, perché poi di che cosa si tratta? A cittadini che in un modo o nell'altro hanno un debito nei confronti del Comune di far fronte a questo debito ma evitando le sanzioni degli interessi che sono maturati nel tempo. Parliamo di tarso, di contravvenzioni? Esattamente, di tutto quello che è in qualche modo il rapporto tra il cittadino e l'ente che non ha potuto trovare un pagamento. Togliere le sanzioni e togliere gli interessi quindi può essere da un lato uno stimolo al cittadino che si vuole mettere a posto a far fronte a questa situazione debitoria. Per altro verso noi auspichiamo che con questa modalità possiamo recuperare delle somme che altrimenti sarebbe difficile recuperare. Ma l'obiettivo fondamentale è quello di dare una mano nei limiti, diciamo così, di quello che le norme consentono.